... Una lunga camminata in paese per andare a prendere l'attrezzatura da sci. Lori del Santo è atletica, nonostante i 53 anni. Sarà per questo che gli ama Toy Boy. Ha accanto la sua nuova fiamma, eletto più bello d'Italia 2011. Michael Rosmino, 26 anni milanese. Il ragazzo ha confessato che vuole fare l'attore. Il suo modello è Gabriel Garco. Non rifiuterebbe però di partecipare alla prossima isola di famosi come Naufrago, perché gli piace fare il gioco duro. Intanto fa il gentiluomo e porta anche gli sci alla Lori. Poi arrivano allo ski lift e via sulle piste di Sestrier per godersi la montagna romantica. Grazie per la visione! Grazie.